Devi andare a parlare con un mucchio di gente che è sospettosa, devi andare a convincerne tanti, devi andare a discutere di questo e di quello, trovi sempre quello che è molto più intelligente di te, trovi sempre quello che è molto più scaltro e che ha capito benissimo che tu in realtà sei un gatekeeper, piuttosto che, cioè il lavoro politico è una grande pazienza, una grande capacità di elaborazione, una grande capacità secondo me di cogliere le persone, cioè di riuscire a entrare in rapporto con quella che è la base sociale. Questo è quello che in qualche modo la nostra società dello spettacolo ha completamente cancellato, perché capite che se uno ha 4-5 volte alla settimana la possibilità di accucciarsi sulle ginocchia di Bianca Berlinguer, piuttosto che di uno di questi programmi della RAI, piuttosto che della SET, dice tutto quello che di critico si può dire naturalmente all'interno di certi parametri, si sia mai che esci dalla narrazione dominante, raggiunge 20 milioni di persone, 15 milioni di persone. Uno che quel tipo di lavoro, quel tipo di opportunità, quel tipo di non ce l'ha e non ce l'ha per una ragione, non ce l'ha per una ragione, semplicemente perché sta cercando di fare una politica non spettacolare. Per raggiungere lo stesso tipo di lavoro con i mezzi che hai tu, che hai io, che hai tu, devi lavorare come una bestia. Dopodiché devi lavorare come una bestia e la maggior parte di quelli che si fidano delle narrazioni dominanti dicono ma perché quello lì non lo invitano alla RAI? Sarà uno strano, no? Cioè diventa quasi, no ma è così che funziona, è assolutamente così che funziona. Diventa quasi col, ma perché non vai alla RAI? Ma perché non mi invitano? Cioè molto semplicemente. Non è che, perché dovresti andare lì, dovresti andare là. Ma non funziona così, non so come dire. E quindi io credo che ci sia una, come dire, che il nostro, il metaverso in cui in qualche modo stiamo già vivendo, renda molto difficile analizzare la politica con categorie tradizionali, renda utili, secondo me, delle ipotesi di lavoro diverse e renda preziosissimo il lavoro che stai facendo tu, di far uscire dei classici, di portarci a riflettere su come alcune cose siano già successe, se sono già successe possono risuccedere e non c'è limite a ciò che il potere può fare in termini di infamia per essere conservato. Questo lo sappiamo da sempre, lo sappiamo dall'impero romano, voglio dire. Non è che abbiamo bisogno... Però, per qualche misura, no? Una delle altre caratteristiche della società dello spettacolo, descritta benissimo dai situazionisti, è l'eterno presente, no? L'eterno presente. Noi viviamo solo nel presente e quindi la prospettiva storica, la storia in sé, viene raccontata in modo, come dire, viene raccontata come per scansioni, no? È il passato, ma noi siamo nel presente. Quando vai a scuola e ti insegnano storie alla stragrande maggioranza dei professori delle nostre scuole, ma è una noia infinita, nel senso che non vedi una connessione, passi un sacco di tempo a studiare delle robe e che dici boh... E non vedi però la vera ragione per la quale invece bisognerebbe studiare la storia, che è continuare a fare degli avanti e indietro, che è riuscire ad apprendere dagli errori fatti, che non è continuare a battere la testa contro il muro sempre nella stessa direzione, no? Ecco, alcune cose vengono, scompaiono. Il libro di Serno non è mai stato prodotto, quando invece è un libro di grande importanza proprio perché ti racconta una storia vera, non so come dire, e ti racconta una storia vera che non è eccezionale, non è eccezionale, non è strano. Io non credo che ci sia un paese al mondo che non ha una polizia segreta pronta a tutto. E oggi siamo in una fase di menzogne terribili. Pensate che quest'ultima cosa si sta discutendo adesso, queste telecamere intelligenti dalle quali ci sentiamo protetti, no? Ah, ma non c'era neanche una... mi hanno spaccato il vetro della macchina, mi hanno rubato l'autoradio e non c'era una telecamera a sorvegliare, no? Un po' indignato perché non c'era una telecamera, dici, meno male che non c'era, no? Perché se ci fosse stata, adesso sappiamo pure che magari ci mettevano un cristiano che passava lì che non c'entra niente e dicevano è stato lui perché ormai stanno hackerando le telecamere elettroniche per cui c'è questa nuova società israeliana con denari del vecchio primo ministro Barak nel cuore, diciamo, della Silicon Valley israeliana che ha inventato questo prodotto per cui tu entri nelle telecamere di sorveglianza delle città e puoi editare come ti pare il filmato. Capito? E quindi domani c'era Mattei quando hanno sparato quello lì, capito? Quando tu eri da un'altra parte, ok? Allora, di questo stiamo parlando. Di questo stiamo parlando. Questi stessi che hanno inventato sia l'algoritmo che gestisce questo tipo di telecamere sia tutta la tecnologia che c'è dietro alla sorveglianza facciale. Certo. Cioè il riconoscimento facciale. Sono sempre società. Quindi ci fanno quasi tenere... Ti vorrei fare una domanda. Ma ad oggi un attivista che si trova davanti a queste informazioni, nell'era digitale, come si dovrebbe comportare? Perché poi questo qua nasce anche come manuale per aiutare proprio gli attivisti di oggi nell'era digitale a comprendere quali sono le dinamiche, in qualche modo, e cosa possono fare. Guarda, io penso che le vere discontinuità siano sempre tecnologiche. Cioè gli elementi di discontinuità possibili, reali, sono tecnologici. In altre parole io credo, e ci ho riflettuto tanto su questa cosa, perché poi io sono un signore di una certa età, faccio politica da tanti anni, sono passato attraverso il 77, tutto quel periodo lì, per cui figuriamoci, mi sono posto il problema della violenza, figuriamoci se non mi sono posto il problema della clandestinità. Io credo semplicemente che oggi spazi di azione clandestina non ce ne siano più. Punto. Cioè che si debba inventare una politica rivoluzionaria che fa meno della clandestinità. Stessa cosa riguardo alla violenza. Io credo che spazi per una politica controegemonica che fa uso della violenza non ce ne siano più. Cioè la violenza si ha sempre, e lo dico senza nessuna connotazione di moralismo, lo dico, cioè io sono uno profondamente non violento di mio, però non è che sono di quelli che dicono ecco la violenza politica. No. Cioè la politica è violenza, lo Stato è violenza, l'organizzazione del potere è violenza. Quindi dire che adesso non si può usare la violenza quando la violenza è quotidianamente pervasiva della nostra organizzazione sociale è ipocrita. Stiamo mandando le armi in Ucraina, stiamo facendo, cioè il complesso militare industriale e la militarizzazione della società è conclamata, quindi voglio dire. Però io credo che se vuoi fare davvero della controegemonia, cioè se vuoi costruire davvero dei processi di soggettivizzazione che vanno in una direzione altra e che siano capaci eventualmente di generare elementi di continuità nella controegemonia, tu oggi non puoi più muoverti in clandestinità e non puoi più operare con la violenza, perché la clandestinità è impossibile. Sei sorvegliato a dei livelli completi e nel metaverso siamo arrivati addirittura al punto che perfino la sorveglianza può essere inventata, quindi possono inventarsi quello che ti pare, ti possono incastrare quello che ti pare, non c'è proprio partita. Io ho parlato con dei compagni usciti dalla galera, ne ho uno in particolare con cui ho un rapporto da tanto tempo perché ha preso tante lauree in carcere, si è laureato con me, insomma è uscito dopo 35 anni per la prima volta in permesso, quindi lui è stato dentro, non aveva mai visto internet, non aveva mai visto i telefonini, non aveva mai visto lì, è stato interessantissimo, no? Il primo rapporto con il mondo cambiato dall'epoca diciamo delle Brigate Rosse all'oggi. E lui la prima cosa che mi ha detto è stata ma non avrei mai pensato che avrebbero potuto concludere così brillantemente in fretta il progetto che avevano in mente. Punto. Cioè sarebbe impossibile adesso, impossibile adesso anche solo organizzare sgarruppatamente come erano organizzate abbastanza sgarruppatamente le BR in quel periodo. Punto. Non è proprio più possibile perché la sorveglianza è assoluta. Ma io mi ricordo, ma scusate nel 74-75 quando c'era il compito in classe di matematica che a turno uscivamo a fare la telefonata dalla cabina telefonica dicendoci la bomba per andarcene a casa. Ma ti immagini che adesso un ragazzino possa anche soltanto immaginare una cosa così? Prima non ci sono più le cabine telefoniche. Secondo dopo un secondo non esiste. Eppure all'epoca era normale che tu nella cabina telefonica dicevi chi lo fa oggi la telefonata? Chiamai i carabinieri. Dopodiché se andava a casa non si faceva il compito in classe di matematica. No? Allora, ed erano delle ragazzate però che erano rese possibili da un certo contesto tecnologico. Oggi, ai 14 anni di oggi quella roba lì non gli viene neanche più in mente. Ma neanche ai più fuori di testa potrebbe venire in mente una cosa del genere. Mi spiego? Quindi c'è proprio stato secondo me un elemento che rende totalmente impossibile questo. E lo stesso vale per la violenza. Ma ti pare che uno va a fare le barricate, a spaccare le vetrine e a fare le giaccherie quando ci sono i droni. C'è una disparità nella capacità di utilizzare la violenza del potere rispetto all'antipotere che è totale. E quindi le strategie devono essere completamente altre. Forse puoi imparare dal tentativo di infiltrazione, puoi imparare al tentativo di entrare all'interno delle strutture dello Stato e portarle dalla tua parte. Cioè c'è bisogno di un lavoro diverso secondo me. C'è bisogno di un lavoro diverso. Quali sono gli spazi di manovra su cui bisognerebbe concentrarsi allora? Bisognerebbe saperlo.